Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana, nel video di oggi parliamo della parola vizio e del verbo viziare. Vedremo diversi argomenti, inizieremo parlando della pronuncia e del significato di questa parola, poi parleremo del verbo viziare, vi parlerò di un paio di espressioni utili in lingua italiana con la parola vizio e alla fine vi consiglierò un articolo utile da leggere nel caso in cui vogliate approfondire questo argomento. Se state imparando la lingua italiana siete nel posto giusto, bravi e brave! Io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi aiuto a migliorare in lingua italiana parlandovi di diversi argomenti tra cui cultura, libri, modi di dire, vocabolario e tanto altro. Per non perdere i prossimi video vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se siete pronti iniziamo! Innanzitutto parlando della pronuncia della parola vizio ricordate che la z che trovate in questa parola è molto più simile alla z, al suono z che conoscete già in pizza per esempio e non è la z di zio o zero. Quindi ricordate il suono z di pizza per esempio è molto simile a una t e una s quindi z, z. Ricordate vizio potreste leggerlo nella vostra mente quando pronunciate questa parola come vizio, vizio, vizio. Per quanto riguarda il significato di questa parola potreste pensare a un contrario di virtù. La virtù è una caratteristica positiva, un'abitudine positiva. Il vizio, al contrario, è un'abitudine negativa, un comportamento che può far male alla persona che ha quel vizio o può far male in generale. Dunque solitamente quando parliamo di vizio stiamo criticando qualcuno. Non è qualcosa di buono avere un vizio, anzi dovremmo cercare di eliminare i nostri vizi. Vediamo alcuni esempi in cui possiamo usare la parola vizio. I vizi più comuni sono il fumo, l'alcol e il gioco d'azzardo. La gola è un vizio che può portare a problemi di salute. Marco ha il brutto vizio di bere tutte le sere. Usare la parola vizio quindi significa parlare del comportamento di qualcuno che ha un'abitudine negativa, quindi un'abitudine che può danneggiare quella persona. Potremmo però anche incontrare l'aggettivo viziato. Spesso si parla di bambini viziati. I genitori giocano un ruolo importante nell'educare i bambini, quindi quando i genitori riescono a educare correttamente i bambini, questi bambini non sono viziati. Ci sono altre volte in cui i genitori dicono sempre sì ai figli e quindi qualunque richiesta viene accettata. Qualunque cosa sia, la PlayStation 2, 3, 4, 5, immediatamente, oppure il cellulare nuovo, qualunque sia la richiesta, questa richiesta viene accettata. In questo modo i genitori stanno viziando i figli e quindi potreste dire che questi ragazzi o questi bambini sono viziati, nel senso che sono abituati negativamente a ricevere qualunque cosa dai genitori, quindi hanno la cattiva abitudine di essere abituati ad avere tutto. Questo aggettivo però non è usato soltanto nel contesto educativo, per esempio potreste aver sentito la frase in questa stanza c'è aria viziata, significa che in questa stanza l'aria è consumata, l'aria è pesante, significa che è difficile respirare oppure che c'è un cattivo odore, significa che l'aria è viziata, bisogna aprire le finestre per far passare un po' di aria. Potrebbe essere che qualcuno usi questa frase, c'è aria viziata, oppure si può dire che una decisione è viziata, una decisione è viziata dal pensiero di qualcuno o da alcuni eventi recenti, per esempio potrei dire che la decisione di Luigi è stata viziata dal pensiero di Maria, significa che Luigi stava decidendo qualcosa ma Maria ha influenzato Luigi e quindi la decisione di Luigi è viziata. Come avrete capito il verbo viziare significa influenzare qualcuno in modo negativo, spesso come ho detto prima parliamo dell'educazione che i genitori danno ai propri figli ma ci sono anche altri contesti in cui possiamo usare questo verbo. I genitori viziano i figli quando danno loro tutto ciò che vogliono. La televisione vizia i bambini quando li espone a immagini violente o aggressive. Francesca grazie per avermi portato anche oggi il caffè, così mi vizi. Per quanto riguarda le espressioni della lingua italiana con la parola vizio o con il verbo viziare probabilmente conoscete già la prima o il primo modo di dire che è il lupo perde il pelo ma non il vizio. Significa che il lupo o la persona a cui si riferisce questo modo di dire può avere delle cattive abitudini quindi può avere dei vizi e quindi pur perdendo il pelo quindi pur diventando più grande pur diventando adulto non perde il vizio, non perde la sua attitudine a commettere quei vizi, a ripetere quei comportamenti negativi. Un'espressione più informale che potreste usare con qualcuno che è gentile con voi è così mi vizi. Potreste dire a un vostro amico o a una vostra amica che per esempio vi porta il caffè o la colazione un giorno potreste dire sei troppo gentile così mi vizi. Significa che vi sentite talmente tanto coccolati, talmente tanto fortunati ad avere un amico o un'amica che vi porti il caffè che vi sentite in dovere di ringraziare ma io chiedo di non essere viziato, ti dico così mi vizi, basta, nel senso che sto così bene per questa cosa che quasi mi sento viziato. Prima di chiudere vorrei consigliarvi un articolo che parla dei vizi capitali che non si chiamano così soltanto perché le persone che sono nella capitale a Roma li fanno ma perché sono dei vizi riconosciuti dalla religione cristiana come i vizi da evitare assolutamente. Anche oggi siamo arrivati alla fine di questo video e spero che sia stato utile. Come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per iscrivervi gratuitamente alla newsletter dove ogni settimana invio parole e risorse per continuare a studiare la lingua italiana e come sempre vorrei ringraziare chi mi sostiene economicamente su Patreon, Kofi e TP perché grazie a queste persone riesco a migliorare la qualità dei video ma anche la qualità della newsletter. Come sempre tutto quello che produco qui sul canale è disponibile in maniera completamente gratuita, anche la trascrizione se dovesse servirvi è disponibile in maniera completamente gratuita e quindi su Patreon non offro nessun servizio aggiuntivo se non una chiamata a fine mese. Quindi se può farvi piacere conoscermi un po' più da vicino sentitevi liberi di sostenermi e trovate tutti i link in descrizione. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche in questo video e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!